Gara particolarmente sentita da tutte e due le tifoserie, questa è una di quelle partite che tutti vorrebbero giocare. Tutte le emozioni live qui su EA Sports, si parte. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto a tutti gli spettatori, chiaramente io non sono solo, con me come sempre c'è Lele Adani. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Sbagli a cazzo della vittoria quest'oggi non possono permettersi distrazioni. Ciao Pierre, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Queste sono le scelte del tecnico di casa per il match di oggi. Porta affidata a Provedel, Luis Alberto insieme a Melinkovic Savic in mediana e Ciro Immobile schierato come unica punta. Provera a farsi avanti. Spinazzola. Il taglio centrale di Spinazzola. Di balla! 1-0! Ecco il gol della squadra ospite che parte subito benissimo. L'ha messa dentro da pochi metri. Il portiere non poteva intervenire qui. Hanno concesso troppo spazio e sono stati puniti. Hanno aperto le barcature con questo gol. 1-0! Occhio all'accelerazione. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Ci mette il corpo per proteggere il pallone. Posizione interessante. Tentativo respinto. Felipe Anderson. Luis Alberto. Riceve Melinkovic Savic. Luis Alberto. Si tuffa il portiere e la para senza problemi. Corner battuto corto. Inmobile! Conclusione ribattuta. Leonardo Spinazzola. Può poggiarla un compagno. Può segnare da lì. Palla fuori. Si ripartirà con la rimessa laterale. Di bala. Pallone per Pellegrini. Matic. Ecco Cristante. Spinazzola. Di nuovo in causa Cristante. Sicuro qui l'intervento del portiere. Ecco Melinkovic Savic. Recupera la palla Mancini. C'era la spinta sul tiro. C'è spazio sulla fascia. Matic. Si affidano a una fitta rete di scambi. Pellegrini. Cristante. E trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Ecco il replay del gol. Da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete. Match che riprende. L'ha allungato portandosi sul 2 a 0. Attenzione Immobile. L'avanzata è l'immobile. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Ecco Matic. Di bala. Fermatutto e riconquista palla sulla tre quarti. Felipe Anderson. Ottima qui l'imbucata. Felipe Anderson. Conclusione sporcata. Occhio alla conclusione. E c'è il gol. Il gol che riapre la partita. Replay del gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio o a scavalcare la difesa. L'ha poi messa con una botta dalla media distanza che il portiere non ha nemmeno visto partire. Ponteggio cambiato. Ora siamo sul risultato di 2 a 1. Karsdorp. Buon lo spunto qui. Attenzione a Di bala. Può far male da lì. Será che va bene qui il portiere. Sceglie l'appoggio. La tocca per Bancini. Si allunga il portiere. E dice di no. C'è il tocco corto. Niente da fare. Il difensore recupera. Alessio Romagnoli. Occhio immobile. Felipe Anderson. Procede senza disturbo. Felipe Anderson. Posso radullare lo svantaggio. Pala che rimane ancora lì. Pericolo. Luis Alberto. Luis Alberto. Il super intervento di lui Patricio. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare. I tifosi spingono. Si fanno sentire. Avvertono il profumo di gol nell'aria. Cross verso il centro dell'aria. Intervento. Salvataggio sulla linea. Dice di no sulla linea. Grande parata. Super portiere. Hanno un'altra chance da calcio d'angolo. Palla in area di rigore. Non riesce a liberare su questo cross. Intervento pulito sul pallone. Minaccia sventata. L'arbitro chiude le ostilità per quanto riguarda questo primo tempo. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Pellegrini. Tiro deviato. Si affidano a una fitta rete di scambi. Può metterla da lì. Una grandissima parata questa. Occhio al pallone in mezzo. Spazza via. Matic. Buono il contrasto. Immobile. C'è spazio sulla fascia. Immobile. Luis Alberto. Cataldi. Sventa bene questo tentativo al portiere. Ecco Matic. Occhio alla ripartenza. Difesa messa male. Occhio alla ripartenza. Pellegrini. Di bala. Di bala. Di bala. Conclusione ribattuta. Ciro Immobile ci mette il corpo per proteggere il pallone Immobile provano a fare Gialla sfruttando questo calcio d'angolo è pronta alla sostituzione la tocca corta attenzione Immobile grande recupero Paolo Di Bala occhio a Di Bala palla morbida a scavalcare la difesa diceva in ottima posizione ottima la posizione del portiere c'è di ribattere curto Pellegrini riceve i bagnes cristante sicuro qui il portiere Marosic occhio immobile Ciro Immobile Marosic ecco Vecino potrebbe essere il gol del pareggio Melikovic Savic la respinta del portiere palla ancora in gioco nulla di pacco dunque ancora pochi giri d'orologio padroni di casa che proveranno gli ultimi assalti per evitare almeno la sconfitta la differenza in campo è minima lo testimonia anche il punteggio Piero devono rompere gli indugi prendere in mano il panino del gioco alzare il ritmo giocare a calcio ma soprattutto va gestito meglio il possesso palla ogni pallone perso rischia di affossare definitivamente le speranze di rimonta Immobile Vessino Hisai non fisca l'arbitro c'è il vantaggio partita agli sgoccioli può essere una delle ultime occasioni Marosic tocco per Felipe Anderson Melikovic Savic Vessino e c'è il gol che dà dunque il pareggio in questo derby attesissimo e ci viene riproposto il replay del gol difese immobile nella circostanza tutti fermi a guardare la palla e così non puoi fare eccezionale la forza di reazione di questa squadra che si è riportata in parità ancora 5 minuti da giocare Brian Cristante Wijnaldum situazione di parità un gol adesso potrebbe essere veramente decisivo pallone in area ma nessuno può approfittarne pallone che esce si ripartirà con rinvio dal fondo il tecnico sceglie il cambio con il numero 17 Ciro Immobile in campo con il numero 9 Pedro ecco Vessino riconquisto un pallone importante a metri per correre lungo la fascia attenzione a Di Bala attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio portiere sugli scudi ha blindato il risultato con una parata pazzesca sembrava già dentro Pier anche la panchina stava già per risultare occhio al cross in mezzo ha intito bene qui la situazione è allo scadere dei 90 minuti le squadre sono in parità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti